Questo Natale siamo ancora più buoni! Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333 426 9756. Più che all'insegna dell'agonismo, per l'ex Campo Coni di Pavia questo 2017 è stato all'insegna dell'agonia. Ecco come il sito del Comune di Pavia descrive la struttura situata in Via Treves. La pista del campo di atletica, che comprende anche strutture per il salto in alto e il salto con l'asta, può essere utilizzata da iscritti alle società, dalle scuole e dagli amatori della FIDAL. L'anno sorribili si inizia lo scorso 20 aprile, quando gli atleti vengono dirottati al Palaravizza, per permettere l'attuazione del piano di rifacimento da 340.000 euro delle tribune, sino ad allora inagibili. Lavori che avrebbero dovuto concludersi lo scorso mese di ottobre, ma le tribune ad oggi rimangono inaccessibili. Il 22 aprile Cento Torri, la società che gestisce l'impianto, riceve un comunicato da Palazzo Mezzabarba. Con le tribune e gli spogliatoi chiusi, l'ex Campo Coni non è in grado di ospitare gare, bensì solo allenamenti. Per ovviare al problema, il 31 ottobre prendono il via i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei servizi genici del Campo Coni. Una buona notizia, se non fosse che dal giorno stesso gli atleti si ritrovano ad allenarsi completamente al buio. Chi sta seguendo i lavori? I lavori mi sembra che stia seguendo l'assessorato ai lavori pubblici di Pavia, dopo aver dato un appalto a una ditta di Roma. Loro lavorano praticamente ininterrottamente dal lunedì a sabato, dalle 9, dal mattino fino alle 7, 7 in quarto, certe volte di sera, perché noi li vediamo in quanto ci sono le luci accesi, sono andati via in questo momento da circa 10 minuti. Le condizioni in cui noi ci alleniamo sono queste, di totale buio. Siamo costretti a mandare in palestra i nostri centri di avviamento all'atletica leggera che ci procurano ovviamente dei costi aggiuntivi non previsti all'inizio dell'anno e sono circa un centinaio divisi in vari gruppi e divisi in varie giornate. e io che soprattutto alleno il gruppo velocità pavese dove ci sono atleti di livello nazionale che fanno un'attività non dico professionistica ma quasi. Costretti ad allenarsi al buio, con quali conseguenze tra l'altro? Già noi siamo qui a meno 2, meno 3 con un freddo becco, però a noi non frega assolutamente niente perché la nostra passione va oltre. Il discorso è che io devo andare in mezzo al campo a fischiare come un asino per far vedere i ragazzi partire, non riesco a correggere niente da un punto di vista tecnico e questo è un momento invece importante perché è di preparazione per l'attività estiva quindi praticamente prendiamo solamente i tempi se riusciamo a vederli partire bene se riusciamo a vederli anche arrivare. Con questo buio qua è impossibile allenarsi, tra l'altro l'incurva c'è anche del ghiaccio che non si vede con questa condizione della visibilità quindi rischiamo tutti i giorni di farci male perché ovviamente ogni passo non sai mai cosa incontrerai quindi anche per i ragazzini più piccoli che non hanno la nostra esperienza sui campi io sono qua da 5 anni più o meno, tutti i giorni, quindi ho anche un po' di più di esperienze di ragazzini quindi non sappiamo più cosa fare. Io ho scritto anche su Facebook più di una volta al sindaco che mi ha risposto la prima volta a seconda già no e quindi non so, non sappiamo più cosa fare. Qual era la risposta iniziale? La risposta iniziale era che sarebbe stato molto difficile che però ci avrebbero provato il problema è che una risposta del genere che poi non dà seguito a una presenza del sindaco qua perché io penso che alle 6 e mezza il sindaco sia a casa quindi noi siamo qua dalle 7 in poi, dalle 6 e mezza in poi quindi voglio dire se una persona si trovasse nella situazione di non riuscire a risolvere un problema ma potrebbe anche venire qua. È questo che noi siamo completamente lasciati a noi stessi. È difficile ad allenarsi anche perché non riusciamo mai a vedere i segni per partire tipo l'arrivo lo vediamo al pelo però è sempre difficile da vedere e tipo nei 250 facciamo una fatica immensa perché dobbiamo stare con la faccia a terra a vedere cioè cercare di vedere il segno per partire anche facendo le partenze normali non riusciamo proprio ad arrivare facciamo anche fatica a fare il percorso da seguire perché senza luce magari andiamo a sbattere uno contro l'altro abbiamo sollecitato perché noi non vogliamo polemizzare con l'amministrazione comunale loro ci dicono che le disposizioni ministeriali in merito ai cantieri sono talmente ristretti che non possono trovare a breve scadenza una soluzione ma noi non possiamo arrivare a marzo senza allenarci perché arrivare a marzo senza allenarci a maggio iniziano le gare a livello nazionale e per qualcuno anche internazionale ci auguriamo e quindi cosa facciamo? Cosa possiamo fare noi? Mi alleno per metterci la faccia e per una società che è la Cento Torri e ho bisogno che alla Cento Torri e la Cento Torri mi venga incontro ad aiutarmi a dare il meglio non chiediamo tanto appunto come ha detto il mio allenatore non chiediamo la luna ma appunto queste luci che ci permettono di allenarci nella condizione migliore Abbiamo dato delle soluzioni Quali soluzioni? Noi abbiamo proposto che la nostra società ha proposto nella figura del Presidente Franco Corona ha scritto al Comune che ci prendevamo la responsabilità indicando un nome e un cognome e solo quella persona esentando da ogni responsabilità l'amministrazione comunale sarebbe andata alle 5 di pomeriggio fino alle 7, 7 in quarto l'orario di apertura del campo ad accendere e spegnere perché sappiamo che entrare in un cantiere in essere ci sono delle responsabilità enormi non è stato accettato, avranno le loro motivazioni per l'amor di Dio però noi siamo ancora qua ad aspettare la soluzione ci hanno detto che avrebbero interpellato i proprietari delle quattro luci che mi sembra si allena il sole non sappiamo più niente In qualche modo rappresentiamo Pavia, la sua città e in questo modo non possiamo neanche rappresentarla al meglio perché comunque noi allenandoci in queste condizioni non sembra ma non ci possiamo allenare al meglio quindi noi una volta che arriviamo a febbraio e non riusciamo a dare il nostro meglio uno ci demoralizziamo, noi comunque perdiamo del tempo perché usciamo dall'università alle 6 e veniamo qua e perdiamo del tempo ad allenarci vogliamo anche raggiungere certi risultati se loro non ci permettono di allenarci in certe condizioni noi non possiamo neanche dare lustro a questa città e comunque stiamo anche lavorando per loro in questo senso per cui dovrebbero perlomeno venire qua parlarne con noi dal vivo e vedere in che situazione ci stiamo allenando invece non è venuto nessuno e non è assolutamente una cosa giusta secondo me è inutile che poi a settembre in base ai risultati durante l'anno, conseguiti durante l'anno ci premiano in comune a livello di sindaco, di assessorato eccetera ne siamo felici di questo perché è una riconoscenza ma quanta fatica per arrivarsi ma però per arrivarsi noi facciamo fatica ci hanno chiuso un anno intero il campo per rifare la pista non abbiamo detto beh andavamo sull'asfalto qui davanti al supermercato Carrefour e non abbiamo assolutamente polemizzato con nessuno anche se lì sono stati un po' troppo lunghi per i lavori che dovevano fare va bene così adesso ogni minima cosa ci minacciano che chiudono il campo ci sono anche altre società che si allenano qua tra cui la società degli arbitri della provincia di Pavia che si allena qua ovviamente per arrivare pronti alle partite della domenica e loro diciamo che hanno anche pagato adesso al comune penso dei fondi da parte della FIGICI penso comunque la federazione italiana degli arbitri abbia dato dei fondi al comune per allenarsi in queste condizioni la situazione è questa qui il problema è che abbiamo saputo che cominciavano i lavori il 23 di ottobre e i lavori cominciavano entro il 31 di ottobre quindi anche pochissimo tempo per organizzarsi ovviamente tutto era già stato organizzato ad esempio i gruppi dei ragazzi che si allenano partono a settembre quindi era già tutto più o meno organizzato il gruppo di quelli che fanno corsa che fanno il corso di corsa è partito a settembre quindi sapendolo prima magari queste cose non si facevano soprattutto ci hanno detto che noi non abbiamo avvisato che ci servivano le luci lì dentro c'è un quadro che tiene mezza parete e quando hanno fatto il sopralluogo non l'hanno visto secondo me loro stanno tergiversando per portarci il più avanti possibile ma noi ci alleniamo sempre la vigilia di Natale noi saremo qua a Santo Stefano noi saremo qua cioè per noi il riposo non esiste è questo che vogliamo far capire io posso capire che c'è della gente in comune che lavora e che con lo sport magari c'entra poco ok? però noi siamo in questa condizione noi facciamo atletica non perché ce lo chiede oppure perché vogliamo ma per il semplice motivo che non è neanche per passione perché ci è successo qualcosa che ci ha cambiato la vita in fare questo sport e continuarlo per esempio a me è capitato di aver fatto una gara mi ha sconvolto e da lì ho iniziato a fare atletica seriamente senza rendermi conto che è iniziato a piacermi è per quello che io lo faccio anche sia di giorno che di notte che alle 9 che alle 10 del mattino non mi cambio perché a me è solo passione che è iniziato a piacermi che è iniziato a piacermi